Essere giocosi è sempre stato inteso come irresponsabilità. Sì? Sai, fin dalla tua infanzia e probabilmente anche ai tuoi figli fai questo. Se sono semplicemente giocosi, pensi che sia irresponsabile. Il modo più responsabile di vivere è che sei giocoso con la vita. È assolutamente irresponsabile indossare un muso lungo e andare in giro su questo pianeta. Sì o no? Non è assolutamente irresponsabile andare in giro con sofferenza? Sì? È la cosa più irresponsabile che puoi fare. Quindi essere giocosi non è irresponsabilità. Essere giocosi è essere molto responsabile e in grado di rispondere alla vita. Solo quando sei giocoso puoi farlo. Quando sei serio, il mondo non esiste per te. Tu e le tue assurdità. Sì? Quando sei serio, tutto riguarda te e le tue assurdità. Il mondo e le altre vite non esistono per te. Solo quando sei giocoso puoi prestare attenzione a ogni cosa. Puoi davvero rispondere a ogni cosa nel mondo, solo se sei giocoso. Altrimenti non puoi. Il semplice peso ti ucciderà. Quindi la giocosità non è una filosofia che devi sviluppare. Sarò giocoso, sarò giocoso. No. La scienza ti sta dicendo che l'intera esistenza è solamente una danza di energia. Sembra che le forze che creano questa esistenza siano sempre giocose. Sempre in questa cultura la creazione è stata descritta come il gioco di Dio. Quando hanno detto il gioco di Dio, molte persone pensanti hanno pensato Oh, quello sciocco gioca con la mia vita. Ecco perché tutta questa sofferenza. Le forze della creazione sono costantemente in gioco. Se smettono di giocare, sei finito. Sì. Tutte le forze basiche in questo, dentro il corpo stesso, devono giocare con pieno vigore. Solo allora ogni cosa è bella. Se smettono di giocare o si rifiutano di giocare, sei finito. Hai chiuso. Quindi giocosità non solo nel tuo atteggiamento. Questo non è il tuo atteggiamento. Questo è l'atteggiamento del creatore. Questo è l'atteggiamento della creazione. Se sei in sintonia con la creazione e il creatore, essere giocosi è molto naturale. Solo quando non sei in sintonia con questo, da qualche parte, sei diventato totalmente asservito al processo della tua mente. Il tuo pensiero, le tue opinioni, le tue ideologie, i tuoi giusti e sbagliati, le tue moralità. Solo allora hai perso la tua giocosità. Se sei allineato con la vita, se sei allineato con la creazione o il creatore, sei naturalmente giocoso. Hai iniziato a ignorare la creazione più ampia e sei diventato troppo attaccato alla tua insignificante creazione che accade qui. Ecco perché tutta la giocosità è sparita. Se sei allineato con la creazione più ampia, non c'è altro modo di essere. Sarai giocoso. Solo se uno è giocoso. Quella persona può davvero affrontare i problemi nel mondo senza esserne influenzato e fare del proprio meglio e merito. Se non sa come essere giocoso, quei problemi semplicemente lo divoreranno. I problemi che esistono nel mondo non sono semplici. Se cerchi di affrontarli senza la giocosità necessaria in te, non pensare mai che risolverai il problema. Verrai semplicemente divorato dal problema. Accadrà solo questo. Ha divorato innumerevoli persone, non è così? Innumerevoli persone con buone intenzioni. Non le ha forse ingoiate? Non le hanno forse ingoiate i problemi del mondo? Innumerevoli persone con buonissime intenzioni sono state prosciugate dalle situazioni esistenti. Puoi gestirle solo se sei davvero giocoso, altrimenti ogni cosa sarà un guaio. Se mantieni qualche ora di giocosità in un giorno, in merito a ciò che fai, vedrai, anche il tuo corpo fisico inizierà a funzionare molto meglio. La tua quota di sonno diminuirà. E la meditazione diventa un processo naturale per chi è giocoso. Perché nel momento in cui sei giocoso, non sei legato alle cose che stai facendo. Una volta che non sei legato con esso, non stai accumulando karma. Stai facendo yoga. Il processo di vivere non ti lega. Il processo di vivere è diventato liberatorio. Quindi non stai più facendo karma. Stai facendo yoga con l'attività che compi. Una volta che fai yoga tutto il giorno, decisamente ogni cosa dovrebbe migliorare. Non è così? Per un principiante che non è ancorabile, l'attività è necessaria. E se non rendi l'attività giocosa, l'attività uccide. Sempre. Non importa quale sia il tipo di attività. ci sono diversi modi di attraversare una situazione, sai? Il Mahabharata è una straordinaria affermazione su questo. Come esseri umani diversi attraversano le stesse situazioni. Quasi ogni cosa che Krishna attraversa, su scala minore, anche le persone intorno a lui la attraversano. Come la attraversano loro e come la attraversa lui? In che modo tipi di persone diverse le attraversano? Le stesse situazioni. Il Mahabharata è un documento eccezionale su questo. Come tipi di persone diverse con livelli di consapevolezza diversi esistono e attraversano le stesse situazioni. Quando c'è qualche problema, viaggi fuori o sei in ufficio, qualche problema sorge. Se ci sono dieci persone, come queste dieci persone diverse fanno esperienza di questo piccolo problema che è emerso? Una persona si tirerà i capelli e darà di matto. Un'altra persona si scaglierà contro qualcun altro. Un'altra persona sbatte la testa. Un'altra persona guarda cosa può fare. Vedi questa cosa accadere? Stessa situazione. Quindi fondamentalmente questo è ciò che il Mahabharata è. che c'è ogni tipo di persone. Brave persone, cattive persone, il male è puro, assolutamente virtuose, vari tipi di persone. Se lo osservi, ogni tipo di essere umano che puoi trovare in qualsiasi società sono tutti lì nel Mahabharata. Un'intera gamma di persone. Gli avidi, gli assolutamente altruisti, timorosi, i coraggiosi, valorosi guerrieri, i codardi. Ogni tipo è lì. E vengono tutti sottoposti ad un intenso dramma. E guarda l'esperienza di ognuno. È molto diversa. È il modo in cui la gestisce è molto diverso. E dove si ritrova alla fine è molto diverso. Attraverso tutto questo dramma, tra tutte le persone, Krishna attraversa la massima quantità di dramma, ma in tonso. Perché ha detto Yogashtaha Kuru Karmani, che significa prima stabilisciti nello yoga, poi agisci. Se agisci senza stabilirti nello yoga, allora la tua azione diventerà qualcosa che ti lega. Non importa cosa stai facendo. Cose semplici che la gente intraprende nella propria vita. Dopotutto, per la maggioranza, il 95% delle persone nel mondo, tutto quello che hanno intrapreso è solo per guadagnare qualcosa per la propria sopravvivenza, procreare, crescere i propri figli. Tutto qui. Solo per questo piccolo dramma che hanno scelto per se stessi, lo volevano. una piccola impresa, un lavoro, una casa, moglie, figli, marito, tutto qui. Per gestire questo, dove si ritrovano? Molti di loro si ritrovano anche al manicomio, solo facendo questo semplice lavoro. Non è così? Sì. Non si sono fatti carico dei problemi del mondo. Non vogliono essere i Dharma goptas che vogliono stabilire il Dharma nel mondo. Nessuna grande responsabilità simile si sono presi. Solo per guadagnarsi da vivere, sopravvivere, procreare e morire. Cosa che ogni creatura sul pianeta fa. per quello guarda dove le persone si ritrovano. Quante persone si ritrovano totalmente fuori di testa? Quante persone sono a metà di quella strada? Sì, troppe persone, non è così? Ha un certo costo incredibilmente alto, il semplice processo della vita. Non è necessario così. Ma purtroppo va così per molte persone. Semplicemente perché non c'è giocosità nel loro modo di esistere. Non c'è giocosità nel modo in cui vivono. Sono troppo seri da morire. Ora, queste due cose sembrano contraddittorie. A un livello stiamo parlando di intensità di passione, devozione. a un altro livello di giocosità. E questo è il punto. Se è passione, devi bruciarci insieme. Se sei mezzo convinto, non saprai cos'è. Ti tortura e basta. Non ne conoscerai il beneficio. Devi davvero bruciare. Altrimenti non saprai per niente cos'è. Se vuoi percorrere il cammino della devozione e vuoi anche salvarti, non funziona. L'idea della devozione, l'idea di scegliere il sentiero della passione, è che vuoi bruciare ogni cosa che è te, in modo che solo ciò di cui sei appassionato o verso cui sei devoto e esiste in te. Ciò che chiami me stesso viene bruciato nel semplice processo. Per una mente pensante, questo sembra autodistruttivo. Ma, a meno che tu non abbia la volontà di bruciare il limitato, un'altra possibilità non emerge mai dentro di te. Se davvero l'altra possibilità deve toccarti, davvero devi bruciare. A meno che tu non abbia la volontà di bruciare il limitato, tra le impostazioni senso all'element, per la procedura non abbia la voce e, metgo un prezzo, ma inman性 attraperciare il limitato. bro dai paesi,